No, sono stato a New York, ho perso l'aereo e mi hanno fatto l'articolo Ragazzi, ma voi avete notato che i giornali... È sempre più facile finire sul giornale È sempre più facile fare il giornalista, o sbaglio Io ho preso pure il tesserino dal giornalista Ah, vedi? Come mai? Ah, ti ho insultato su, vabbè Più di un giornale ha fatto quest'articolo, ma la cosa che mi ha colpito non è tanto all'articolo in sé per sé Ma tipo sotto 600 commenti, 700 commenti Giuseppe, che cazzo di aereo hai perso? Giustamente, eccoci, l'ho fatto a nuvia Ma che gli vuoi dire? Giustamente, anche io ho perso...